Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi è un video un po' particolare. Eccomi. Oggi sfoderiamo T-Rex che ha fatto anche la intro per un video un po' esotico. Non so, per chi mi segue sui social sicuramente avrà visto nell'altro sito, quello Viola, da live per il mio compleanno con il mitico T-Rex. Oggi ci andiamo a sfoderare anche in un video, ci andiamo a giocare qualche partitella in Power League e voi vi chiedete ma perché lo stai facendo? Non sempre ragazzi bisogna farsi le domande. Allora mi preparo, ci rivediamo direttamente in gioco e vediamo di vincere qualche partita con l'aiuto del nostro T-Rex. Guardate, il sommo destrello. Sicuramente non è una delle cose più comode che ho fatto in vita mia ma si può fare. Ci andiamo T-Rex qua, ai comandi e noi proviamo a giocare PL. Vediamo come andrà. Diciamo che è un po' ingombrante e vuole stare al centro dell'attenzione. vediamo un po'. Dobbiamo provare a recuperare un round perso. Quello con max ha sempre la ulti, incredibile. attenzione. La Bonnie. La Meg va giù. Bellish. E diciamo che giocare col T-Rex non è vol massimo. però magari se la nostra Meg facesse qualcosa... ok... ho buttato via anche il gadget, Shelly. godo leggermente. Ragazzi, giocare con questo già era... è qualche giorno che... insomma gioco un po' meno a Brostats, sono un po' arrugginito. Il T-Rex è la variante in più, poi i miei compagni è la terza variante in più. e quelli contro sembrano pro player... ok... ce l'hanno portati a casa. Uno a uno e a questo punto vediamo di tentare il miracolo. sette a tre... però con Shelly ha di nuovo la ulti... e vabbè... vai ragazzi. Partita in arena stratificata. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Eh, magari serviva qualcuno che spaccasse, effettivamente. potrebbe non essere stata un'ottima scelta Bea. Ce la faremo andare bene lo stesso. Il nostro T-Rex sicuramente ci porterà la vittoria. Si spera. Vediamo, eh. Eh, il gas un pochino sta rischiando, però regge bene. Ok. Una bella one shot. Potremmo anche aspettare che spari. E poi la impalliniamo. Allora, 5 a 2. Per ora non si è messi così male. Non si è messi nemmeno così bene, però. Ok. Quello Quotis sta facendo cose. Benissimo. Li abbiamo accerchiati alla grande. Non male, non male. 13 a 4. Il Semino normalmente sta buttando una quantità di muri importante. Ah, è già netto che giustamente non ha terra qua dove siamo noi. bene. Allora, 16. Abbiamo qualche kill di vantaggio. E devo dire, dai, la prima è andata. Abbiamo questo... Questo match. In arena stratificata. Se riusciamo a portarcelo a casa del tutto. Con il nostro T-Rex che carriè. Avrei dovuto mettere Buzz, effettivamente. e Buzz sarebbe stata un'ottima scelta. A tema con il video. Semino one shot. Si rompa giù. Peccato. Ok, la bell è un pochino bassa. Ok. Ho preso la kill. Dobbiamo stare attenti alla Jeanette che avanza, infatti. Ok. Ok, il Semino che si è salvato a pelo. Mi stavo per entrare nell'anima. Diamo un po' attenzione. Vai, vai, prendilo. Perfetto. Ok, qua il nostro T-Rex ci ha aiutato in una bella giocata. Si gode. Abbiamo fatto delle belle robe. Questo si è dimenticato. No, ok. L'aggiornamento di iOS non ci interessa. Stiamo bene senza. Devo ricordarmi che ho anche i gadget. Ok, bella la kill. Bellissimo l'attacco. Ci è piaciuto. E ci è piaciuta anche questa. Dagli, ragazzi. A posto. Allora, per questo video con il T-Rex è tutto. Io vi ricordo il codice prevertivo in un shop. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.